Buonasera, buon sabato e buona vigilia di Capodanno. In apertura di videogiornale andiamo in Valsesia dove è in arrivo un importante finanziamento rivolto al commercio. Sentiamo tutti i dettagli in questo servizio della nostra corrispondente. Grande soddisfazione in Valsesia per l'ottimo risultato ottenuto a livello regionale dal progetto strategico per il distretto del commercio della Valsesia con Varallo Capofila e la partecipazione dell'Unione Montana e del Comune di Cuaruna. È in arrivo infatti un finanziamento di 366 mila euro ottenuto presentando un progetto arrivato quarto in Piemonte su oltre 70 presentate da varie aree del territorio tra le quali anche comuni e territori di grandi dimensioni. Il progetto secondo quanto viene spiegato dal Comune di Varallo che è Capofila sarà attivato molto presto perché il finanziamento possa essere effettivamente attribuito a dei commercianti e li possa concretamente aiutare si è pensato in questa fase di offrire 100 contributi da 3.000 euro l'uno ai negozi che si candideranno tramite un bando che verrà emesso nei primi giorni di gennaio e di supportare poi gli altri nelle fasi successive. Siccome è previsto un cofinanziamento dei commercianti è stata fissata una quota molto limitata pari al 10 per cento in modo che sia sostenibile da tutti. Per chi vorrà inoltre saranno messe a disposizione importanti attività di formazione su cui c'è stato un particolare impegno da parte del sindaco di Campertonio Miriam Giubertoni. Sarà lei in particolare a seguire la parte relativa alle piattaforme digitali. Invece per il Comune di Varallo le prossime fasi del progetto saranno seguite dalla consigliera con delega al commercio Antonella Galasso che è stata nominata manager di distretto. Ed ora parliamo delle attività della Fondazione Comunità del Novarese. Sentiamo il presidente Maggi. Il piano erogativo 2022 esperato in conferenza stampa il presidente della Fondazione Comunità Novarese Ollus e il professor Davide Maggi è stato il risultato di un ascolto attivo e proattivo delle necessità che il territorio ha espresso. Durante gli incontri organizzati nei primi mesi dell'anno abbiamo raccolto le stanze più ricorrenti sulle quali ci è stato chiesto di attivare una riflessione e un'operatività e l'impegno nei confronti dei giovani duramente messi alla prova dalle limitazioni per il Covid ha risultato essere la priorità. I progetti che la Fondazione ha scelto di ritenere meritevoli rispecchiano le necessità che abbiamo raccolto tra cui in primis l'attenzione ai piccoli, ai piccolissimi, che sono anche esempi di fragilità ma anche assoluta forza della nostra società perché ne rappresentano il futuro. Oggi per il territorio, per la nostra comunità e per la Fondazione Comunitaria del Novarese è una giornata di festa, di festa perché incontra il territorio e è possibile appunto restituire ciò che abbiamo raccolto durante tutto quest'anno. Noi ci siamo messi in ascolto a partire dallo scorso autunno, abbiamo elaborato alcuni progetti, oggi stiamo vedendo la loro realizzazione in termini di finanziamento e poi avranno la loro concretizzazione nell'immediato futuro. Pertanto sono 13 progetti, 2 che riguardano i giovani e 5 che riguardano l'area dell'assistenza sociale e 5 che riguardano l'area dell'arte e della cultura, quindi le nostre aree tipiche sulle quali vogliamo dare delle risposte pensando appunto attraverso questi progetti di creare delle condizioni di buona comunità. Nello stesso tempo c'è anche un nuovo progetto che si fa avanti che è quello della mediazione culturale e quindi grazie anche alla collaborazione con l'ufficio scolastico, stiamo realizzando appunto queste iniziative molto importanti perché nella logica della coesione sociale queste risposte sono indispensabili e allora questa collaborazione ci è particolarmente indicata come possibile, come realizzabile e quindi i progetti prenderanno via proprio in questo senso. Oggi parleremo anche dell'ultimo creato in casa Fondazione Comunitaria che è ABC Dono, che è questa iniziativa fatta a favore dei bambini proprio per instillare in loro il senso del dono e prima di tutto il dono siamo noi, ciascuno di noi è dono per l'altro e quindi partire da questi progetti educativi risulta particolarmente importante per creare una buona comunità coesa e che sa camminare insieme. Oli esausti a Novara, una nuova campagna di sensibilizzazione. Il servizio Con la consegna del primo contenitore per la raccolta degli oli vegetali esausti all'istituto comprensivo Duca d'Aosta ha preso ufficialmente il via il progetto Il Botto gli Olio va a scuola un progetto promosso dal comune di Novara e da Assa realizzato con il contributo di due Mike Servizi. L'azienda è caricata dalla raccolta dell'olio vegetale da cucina patrocinato dal Lega Ambiente e dal Conoe, il Consorzio Nazionale di Raccolta e Trattamento degli oli vegetali esausti. Coinvolgerà le studentesse e gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado della nostra città. Sarà un vero e proprio campionato di raccolta dell'olio, una sfida tra tutte le classi a raccogliere il maggior quantitativo di bottiglie d'olio e che si concluderà il 30 aprile. L'obiettivo è rafforzare la consapevolezza nelle nuove generazioni della necessità di salvaguardare e proteggere l'ambiente. Raccogliendo l'olio vegetale esausto prodotto dalle famiglie e portandolo a scuola si potrà contribuire a preservare le acque dei nostri fiumi e dei nostri mari e a dare nuova vita ad un rifiuto fondamentale nella creazione di una nuova materia. La finalità è quella di far comprendere da un lato che l'abitudine di versare l'olio non più utilizzato negli scarichi di casa è un gesto dannoso per l'ambiente e dall'altro che raccoglierlo e valorizzarlo è l'azione virtuosa da mettere in atto. La classe più virtuosa ossia quella che avrà raccolto il maggior quantitativo di olio vincerà un viaggio di istruzione a Zoom, il primo bioparco immersivo d'Italia con i bus messi a disposizione della Sun. Primi offerti da asse legambiente anche per la seconda e la terza classificate. A casa ogni alunno dovrà raccogliere l'olio esausto, olio vegetale, grassi animali usati per le fritture e la preparazione degli alimenti e l'olio di conservazione dei cibi sotto ogni scatola come tonno, funghi, carciofine, acciughe e altro. L'olio raccolto dovrà essere versato in una bottiglia di plastica trasparente che una volta piena dovrà essere portata in classe per la registrazione della quantità conferita in modo da poter poi stilare la classifica finale e successivamente andrà riposta nell'apposito contenitore per la raccolta. In città sono presenti 16 punti per la raccolta dell'olio vegetale esausto dedicato ai cittadini. Per tutte le informazioni assa chiocciola assa.it Ed ora ci spostiamo a Vercelli dove in pieno periodo natalizio sono arrivati importanti contributi e donazioni al reparto di pediatria dell'ospedale Sant'Andrea. Sentiamo il primario. Tanta attenzione per i bambini ricoverati negli ospedali dell'ASL-VC in questo periodo natalizio. Con noi il primario della pediatria dell'ospedale di Vercelli che è di quello di Borgostese e il dottor Gianluca Cosi. Allora sono arrivati tanti doni, è vero? Sì sono arrivati tanti doni. In realtà è una tradizione che si ripete da diversi anni. Sono molte le realtà del territorio che nel periodo delle feste natalizie si adoperano sia con donazioni che anche per aglietare il tempo trascorso in ospedale per i nostri piccoli pazienti. Io ho fatto un elenco col prezioso aiuto della coordinatrice femmeristica del reparto perché quest'anno sono state veramente molte le associazioni quindi faccio un rapido elenco. Le ricordiamo perché è giusto anche ringraziare. Spero di non dimenticare nessuno. Comunque le associazioni che hanno fatto donazioni e che comunque hanno organizzato degli eventi all'interno del reparto che continueranno comunque fino al periodo dell'epifania compresa sono Piccoli Cuori, Abbio, Aido e Alpini, Pagliacci nel Cuore, Motoclub con Fraternita, la Polizia di Stato che è stata presente con il Prefetto e il Questore, Protezione Civile di Vercelli con l'Assessore Locarni, le Guardie Penitenziarie, la Croce Rossa, Ok Vercelli. Poi ci sono state due Jam Session in reparto realizzate dal duo Piano Voce e Toss FM e dal Quintetto di Fiati a Tipic Ensemble. Quindi questi sono momenti di festa. Sostanzialmente di festa organizzati a favore dei bambini ricoverati o che erano presenti in reparto in pronto soccorso o nelle varie attività ambulatoriali. Questo fa bene ai bambini? Ma sicuramente sì perché comunque passare le vacanze di Natale in ospedale per quanto il reparto sia stato umanizzato e reso quanto più un bello possibile grazie anche all'attività negli ultimi anni di diverse associazioni di volontariato, comunque non sei mai a casa tua ma per cui avere questi momenti di sfago, il fatto che arrivino dei regali, delle sorprese è una bella cosa per i bambini che sono costretti a passare le vacanze di Natale in ospedale. Ed è davvero tutto. Grazie per essere stati in nostra compagnia. La linea passa a Weekend Sport. Buon proseguimento di serata e di nuovo buona vigilia di Capodanno. Grazie a tutti.